Due volti nuovi, giovani, ma anche due figure esperte. Si sono presentati oggi alla stampa il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, Riccardo Barbera, e il nuovo capitano della Compagnia di Pescara, Monica Dallari. Città effervescente, provincia effervescente, meravigliosa dal punto di vista effervescente, dal punto di vista commerciale, culturale, economico. Il nostro compito è proprio preservarla. Preservare questa città e questa provincia da qualsiasi tipo di infiltrazione criminale. Negli ultimi 21 anni ho avuto incarichi esclusivamente in comandi territoriali, per lo più incarichi al comando di riparti investigativi. Quindi ho fatto brevemente Bari, ho fatto Palermo, sono stato a Cosenza. Cercherò di portare la mia esperienza al servizio di questa città, di questa provincia, di questa comunità. È una città, è un territorio molto vivo, economicamente in grande evoluzione. Quindi noi dobbiamo fare attenzione e noi dobbiamo garantire alla società civile il rispetto delle regole. Capitano Dallari, la prima volta a Pescara, ma immagino che spesso si è trovata nell'essere la prima volta un capitano donna. Sì, mi è capitato in tutti i miei incarichi, già da tenente alla norma della compagnia di Arezzo e come comandante della compagnia di Cortona. Quindi non è la prima volta. Noi siamo militari, per cui sono il capitano e di conseguenza mi relaziono con i miei uomini e donne come un qualsiasi comandante dirigente si comporterebbe in altri contesti. Quindi per me non c'è differenza e neanche per i miei uomini. È stato detto che c'è bisogno di una grande collaborazione fra le forze dell'ordine, anche forze dell'ordine diverse, per un interesse superiore che quello del cittadino. Immagino sia anche il suo faro. Assolutamente, è il faro che ci illumina perché le forze dell'ordine collaborano tutte nella stessa direzione per cui essere vicini, uniti, far fronte comune contro la delinquenza è lo scalino principale per poter fare qualcosa di concreto.